Noi stasera si è parlato, si è cercato di sviluppare un po', vediamo un po' se poi fra un po' di tempo si fa qualcosa a più voci, magari con voci recitanti o un po' di muovo, o qualche maniera. Che bolle in pentola? Dicci che bolle in pentola? Sì, tra qua entro 18 anni ho sovere e giù di lì vorrei appunto una cosa mia, visto che non l'ho mai creduto a me stessa, vorrei appunto una cosa per me, perché non mi interessa vedere i materiali che riceverò, voglio una cosa che mi rimanda del senso, e allora appunto scriverò un qualcosa sul sentirmi vera, cioè delle cose su questo, non sulla verità, perché quella è intoccabile, cioè non è assoluta, però sulla mia verità. E voi si aspetteranno, questo è il tuo ulteriore lavoro, bocca al lupo, grazie a voi, grazie grazie e